epicuro la vita e le opere sulla vita di epicuro come per la maggior parte dei filosofi antichi abbiamo scarse informazioni quasi tutte tramandate dal dossografo di oggi nell'aerzio vissuto nel terzo secolo dopo cristo di oggi nell'aerzio ha dedicato ad epicuro il decimo capitolo del suo libro vite dei filosofi nato nel 341 avanti cristo in una famiglia di coloni atenesi del demo di gargettio emigrati nell'isola di samo situata dinanzi alle coste dell'antica ionia epicuro compì un primo viaggio alla volta di atene all'età di 18 anni per il servizio di efebo dopo la morte di alessandro il grande e l'espulsione dei coloni atenesi da samo e gli raggiunse il padre neocle a colofone innamorato della filosofia sin dall'età di 14 anni la tradizione lo vorrebbe discepolo di un tal nausifane il quale lo avrebbe iniziato ai principi dell'atomismo democriteo nel 306 avanti cristo epicuro si trasferì definitivamente ad atene di cui possedeva la cittadinanza insieme ad un nutrito gruppo di discepoli provenienti in gran parte dalla città di mitilene nell'isola di lesbo dove egli aveva precedentemente installato una sua scuola nella metropoli greca epicuro acquistò per 80 mine una casa con giardino che diventò la sede della sua nuova scuola conosciuta nell'antichità appunto con il nome di giardino alla sua morte nel 271 avanti cristo all'età di 70 anni ne lasciò in eredità la proprietà ai discepoli la trasmissione delle opere epicuro fu scrittore prolifico secondo le fonti egli avrebbe scritto ben 300 libri di cui tuttavia ci rimangono solo alcuni titoli possediamo per intero soltanto tre lettere a menescio a erodoto e a pitocle che insieme a 40 massime capitali in greco chiriai doxai ci sono state trasmesse da di oggi nella erzio il quale evidentemente nutriva una particolare ammirazione per il nostro filosofo tanto da dedicargli un intero capitolo della sua monumentale opera nella lettera a erodoto sono esposte le dottrine fisiche e gnoseologiche dell'epicureismo la lettera pitocle tratta dei fenomeni celesti e meteorologici e quella a menescio è incentrata sull'etica e contiene l'esposizione del celebre tetrafarmaco epicureo un'altra raccolta di 81 massime solo in parte corrispondenti con le 40 massime capitali fu scoperta nel 1888 all'interno di un manoscritto conservato nella biblioteca vaticana ed è conosciuta dunque come gnomologio vaticano i ritrovamenti archeologici un contributo importante alla conoscenza della letteratura epicurea è stato dato dagli scavi archeologici ad ercolano nei pressi di napoli nel diciottesimo secolo fu riportata alla luce una villa con una biblioteca contenente vari testi attribuiti a filodemo di gadara un epicureo del primo secolo a.c insieme ad innumerevoli papiri con frammenti dell'opera principale di epicuro sulla natura e altre lettere l'analisi dei papiri che richiede un paziente lavoro di ricostruzione filologica è ancora in corso un altro ritrovamento di un certo rilievo è avvenuto nel 1884 a enoanda in liscia nell'odierna turchia alcune lastre di pietra adornanti un portico recano incisi testi di epicuro tra cui una lettera alla madre e di diogene il ricco possidente che fece realizzare l'opera grafica affinché i concittadini se ne potessero giovare infine poiché la dottrina epicurea rimase nel tempo assai fedele alla lettera del maestro senza subire mutamenti rilevanti per ricostruire il pensiero del nostro filosofo ci si può avvalere del de rerum natura di tito lucrezio caro e delle opere di cicerone plutarco e sesto empirico le edizioni critiche del corpus epicureo la prima edizione critica dei testi epicurei fu pubblicata all'ipsia nel 1887 dal filologo tedesco herman carl usner 1834 1905 col titolo di epicurea in essa sono raccolte le tre lettere di epicuro tramandate da di oggi nella erzio cui seguono i numerosi frammenti delle opere e delle lettere perdute provenienti in gran parte dai papiri ercolanesi nonché il testamento di epicuro quindi i frammenti provenienti dalle opere incerte suddivise per argomento inoltre la vita di epicuro di diogeno e la erzio è quella riportata nel codice suda una specie di enciclopedia storica risalente al decimo secolo dopo cristo e scritta in greco bizantino le edizioni successive si rifanno all'opera di usner per questo nella classificazione dei frammenti epicurei si utilizza convenzionalmente la sigla us proceduta dal numero stabilito dal filologo tedesco i generi letterari le fonti ci hanno restituito testi classificabili secondo diversi generi letterari i testi più corposi le lettere appartengono senz'altro al genere filosofico epistolare le massime sono riconducibili a quello aforistico o gnomologico di intonazione moralistica mentre i frammenti delle opere perdute sembrano piuttosto stralci di ampi trattati scientifici il punto di partenza un'esperienza concreta cui segue una scelta di vita quello che la carne sperimenta il filo conduttore della speculazione picurea parte da una esperienza concreta comune a tutti gli esseri umani quella della carne sarcos grida la carne non avere fame non avere sete non avere freddo chi abbia queste cose e speri di averle anche con zeus può gareggiare in felicità gnomologio vaticano 33 la carne qui non corrisponde ad una parte della persona platonicamente intesa come anima separata dal corpo ma all'individuo nella sua interezza l'esperienza fondamentale che ciascuno di noi può sperimentare senza la mediazione di alcuna forma di ragionamento astratto consiste nel rapporto con la propria corporeità è nella carne che le idee come dolore e piacere trovano un significato immediatamente comprensibile a tutti in tal senso ciò che proviamo col corpo e nel corpo rappresenta una specie di livello zero su cui si fonda ogni forma di umana conoscenza nell'esperienza della fame della sete del freddo siamo più nudamente esseri umani al di là di ogni ulteriore distinzione di sesso di gruppo etnico o di posizione sociale corpo e anima a livello zero sono un tutt'uno come vero che non vi è alcuna sofferenza senza coscienza della stessa giacché soffriamo veramente soltanto quando sentiamo sappiamo di stare soffrendo questa dunque l'esperienza evidente di per sé essa non necessita di alcuna dimostrazione teoretica la scelta la scelta fuggire il dolore la scelta è assolutamente conseguente all'esperienza al grido della carne non si può non rispondere scegliere di rispondere significa assumere comportamenti atti a liberare la carne dalla sofferenza come saziare la fame spegnere la sete riscaldarsi al focolare in queste azioni consiste concretamente il piacere nell'accezione picurea esso si ottiene ristabilendo il naturale equilibrio del proprio essere con il soddisfarre in primo luogo i bisogni essenziali della corporeità il bene come astrazione in senso socratico e platonico non ha alcun significato per epicuro esso coincide con il concreto interesse dell'individuo con ciò che propriamente può essergli utile ovvero con ciò che gli procura piacere annullando il dolore la filosofia concepita come ricerca razionale del piacere la filosofia allora sarà intesa dagli epicurei come ricerca razionale del piacere ricercare razionalmente il piacere significa imparare a distinguere in cosa esso realmente consista sgombrando il campo da ciò che è illusorio il solo vero piacere è il puro e semplice piacere di esistere ed è definito in termini sottrattivi o privativi difatti i vocaboli utilizzati per indicare quello stato che noi chiamiamo di benessere o di felicità sono aponia assenza di dolore nel corpo e atarassia assenza di turbamento nell'anima in greco e nelle parole derivate dal greco l'alfa ha valore di prefisso negativo come dire al piacere supremo arriviamo per sottrazione di dolore fisico e di inquietudine spirituale il limite in grandezza dei piaceri e la detrazione di ogni dolore e dovunque è piacere e per tutto il tempo che persiste non c'è né dolore fisico né spirituale né ambe due massime capitali 3 causa delle molteplici sofferenze che affliggono l'umanità è dunque l'ignoranza di cosa sia il vero piacere e la conseguente ricerca affannosa di quei piaceri fittizi o instabili da cui Epicuro ci mette in guardia si è infelici per tre fondamentali motivi perché non ci si sente soddisfatti di ciò che si è o si ha e si cade preda di desideri innaturali perché ci si pone mete al desiderare che si situano al di là della nostra portata perché infine si vive nella perenne angoscia di perdere quel che si ha per questo la radice della sofferenza è nell'animo delle persone iscritta nella loro inadeguata visione del mondo spinta da opinioni vuote la gran parte degli uomini si condanna ad una vita di sofferenza quando invece potrebbe cogliere il frutto della felicità che è sempre alla nostra portata ed è questa la funzione che Epicuro assegnerà alla filosofia curare la sofferenza attraverso la rimozione delle sue cause ovvero delle false opinioni la filosofia medicina dell'anima la filosofia sarà dunque concepita come terapia spirituale una pratica conoscitiva che ha senso perseguire in quanto efficace nella eliminazione del mal del vivere l'approccio del maestro di filosofia alla malattia assomiglia a quello del medico empirista della scuola di Ippocrate si parte dal riconoscimento dei sintomi anamnesi si passa all'individuazione delle cause della malattia diagnosi si ipotizza l'ulteriore sviluppo del male prognosi ed infine si prescrive un percorso terapeutico la sofferenza spirituale e fisica è il sintomo l'ignoranza di cosa sia bene per l'uomo e di quale sia il reale significato dei fenomeni naturali ne è la causa il perdurare del sintomo e l'infelicità il destino che attende coloro che non si preoccupano di rimuovere l'ignoranza dedicandosi alla filosofia il mettere in pratica la dottrina di Epicuro il rimedio Vano è il discorso di quel filosofo che non cura le passioni dell'uomo come infatti non c'è alcun vantaggio dalla medicina che non cura le malattie dei corpi così nemmeno dalla filosofia se non caccia la passione dell'anima frammento 221 Usener l'etica la distinzione tra piacere catastematico e piacere cinematico l'etica epicurea è definita ovvero fondata sul piacere in greco edonè si tratta di un concetto fondamentale dal momento che sulla possibilità di stabilire cosa sia autenticamente piacere si fonda in ultimo l'efficacia terapeutica della dottrina Epicuro distingue due diversi generi di piacere in movimento cinematico e in stato di equilibrio catastematico i primi appaiono sì dolci e lusinghieri ma provocano un'eccitazione violenta ed effimera che in ultimo genera dolore e insoddisfazione senza mantenere la promessa iniziale l'ebbrezza data dall'assunzione smodata di alcol per esempio si manifesta in principio piacevole ed attraente ma il malessere fisico e lo stato di prostrazione che subentrano successivamente fanno sì che il bilancio dell'azione sia decisamente negativo insomma chi beve per dimenticare in realtà finisce con l'incrementare la quantità di dolore da sopportare al contrario il piacere a riposo senza stimoli eccessivi e duraturo stabile pienamente appagante si tratta della nostra condizione naturale niente di speciale il suo raggiungimento è semplice da ottenere basta non avere fame non avere sete non avere freddo godersi per così dire l'assenza di dolore quello stato di salute di energia e di tranquillità che in genere finiamo con l'apprezzare soltanto quando una malattia un infortunio o una preoccupazione ce ne privano come chiaramente espresso nella celebre lettera a Menecio perché è in vista di questo che compiamo tutte le nostre azioni per non soffrire né avere turbamento quando ciò noi avremo ogni tempesta dell'anima si placherà non avendo allora l'essere animato non avendo alcuna cosa da appetire come a Lui mancante né altro da cercare con cui rendere completo il bene dell'anima e del corpo e allora infatti che abbiamo bisogno del piacere quando soffriamo perché esso non c'è quando non soffriamo non abbiamo bisogno del piacere il vero piacere il vero piacere consiste nell'assenza di dolore fisico e di inquietudine spirituale questa condizione di assoluta tranquillità determinata dal piacere inteso come annullamento del dolore è per l'uomo in carne ed ossa il bene in sé esso è qui ed ora alla nostra portata ci dice Picuro non sperduto tra le nebbie di qualche improbabile iper-uranio e si tratta di un bene assoluto perché perfetto completo non può essere accresciuto sommandovi altri piaceri il piacere catastematico si contrappone a quello cinematico in un certo senso come l'essere si contrappone al divenire il perfetto all'imperfetto ciò che è fuori del tempo a ciò che è temporale al lettore moderno che è abituato a dare un significato unilaterale all'idea di piacere assimilandolo di fatto al piacere cinematico una tale concezione potrà risultare difficile da comprendere cosa ci sarebbe di straordinario nel semplice non sentire dolore il punto è proprio questo nulla di straordinario se non quella sensazione peraltro difficile da descrivere che corrispondere al puro piacere di essere al mondo di respirare liberamente e pacatamente sentendosi parte del tutto una sensazione che potremmo definire di pieno benessere spirituale come se non avendo un oggetto particolare cui attaccarsi col desiderio la coscienza del singolo si potesse espandere in maniera indefinita cosmica felicità come atarassia al piacere catastematico corrisponde quella che possiamo altrimenti chiamare serenità o tranquillità dell'animo vale la pena ricordare che il termine utilizzato da Epicuro è atarassia alla lettera assenza di turbamento a differenza di serenità esso ha una chiara connotazione negativa sottrattiva come dire la felicità è lì basta eliminare il di più ciò che disturba il nostro naturale modo d'essere la disciplina dei desideri nonostante tutto conseguire lo stato di atarassia non è affatto semplice occorre sottoporsi ad una severa ascesi dei desideri ossia esercitarsi questo è il significato etimologico di ascesi dal verbo greco ascheo esercitare prima di tutto occorre esercitarsi a distinguere la loro diversa natura per Epicuro esistono desideri naturali e necessari naturali e non necessari e desideri vuoti né naturali né necessari naturali e necessari sono tutti quei desideri la cui mancata soddisfazione produce sofferenza di cibo di acqua di riposo desiderio di un rifugio eccetera eccetera naturali ma non necessari quelli che pur essendo conformi alla nostra fisiologia possono essere messi da parte o posticipati senza che ciò generi sofferenza per esempio il desiderio di assaggiare un piatto ricercato succulento di vivere in una dimora particolarmente confortevole o ancora il desiderio sessuale totalmente vuoti perché fondati su false opinioni sono invece desideri quali ricchezza notorietà successo immortalità a secondare tali desideri non elimina la sofferenza bensì ne produce di nuova perché essi non essendo naturali non possono essere realmente soddisfatti chi corre dietro al denaro per esempio per quanto ne possa accumulare in cassaforte troverà sempre qualcuno più ricco di lui il suo desiderio in quanto illusorio è destinato a rimanere inappagato saggezza e saper distinguere le diverse tipologie di desideri comprendere la distinzione tra le differenti specie di desideri dunque è fondamentale per conseguire la tranquillità dell'animo che si otterrà appunto soddisfacendo i desideri naturali e necessari limitando quelli naturali ma non necessari e liberandosi del tutto da quelli non naturali né necessari per fortuna afferma Epicuro la beata natura ha fatto sì che le cose necessarie fossero facilmente procacciabili e quelle difficilmente ottenibili le ha rese non necessarie in questa pratica consiste la suprema virtù o saggezza in greco fronesis saggezza esser prudenti sapersi orientare in maniera lungimirante tra piaceri e dolori effettuando quando è necessario un calcolo ed una valutazione degli utili a volte sopportare un piccolo dolore oggi può procurare un grande bene domani o viceversa il saggio è autarchico ossia libero dalla schiavitù dei desideri vani il saggio impara a rendersi quanto più possibile indipendente dai desideri ad accontentarsi del poco per non aver a soffrire in tempi di penuria e per accogliere con maggior gioia le vacche grasse tale ideale di saggezza è definito autarchia indipendenza autosufficienza vale solo la pena di notare infine che nessuna immagine è più lontana dalla realtà storica dell'epicureo inteso come gaudente libertino e materialista dedito a piaceri volgari della tavola del vino dell'erotismo tale immagina giunta sino a noi attraverso secoli di letteratura polemista di impronte cristiana volta a denigrare le filosofie non assimilabili all'ideale evangelico o piuttosto alla dottrina della chiesa non era di certo estranea ai contemporanei di epicuro né a quelli dei suoi successori tracce di tali polemiche soprattutto tra scuola epicurea e scuola stoica si trovano abbondanti nella letteratura filosofica antica e tardo antica a sgombrare il campo da ogni possibile fraintendimento provvide lo stesso epicuro rivolgendosi all'amico Menecio poiché non banchetti e feste continue né il godersi i fanciulli e donne né pesci e tutto quanto offre una lauta mensa da vita felice ma saggio calcolo che indaga le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto che scacci le false opinioni dalle quali nasce quel grande turbamento che prende le anime lettera a Menecio la fisica la fisica serve a curare l'inquietudine generata dall'ignoranza intorno ai fenomeni naturali ma la nostra tranquillità d'animo è minacciata dalla paura soddisfare i desideri lasciando però che la paura continua ad albergare nella nostra anima rende vano ogni tentativo di conseguire l'imperturbabilità le principali paure che affliggono gli uomini sono legate a ciò che appare sconosciuto e in quanto tale minaccioso la morte e l'oltretomba la divinità la fragilità umana la malattia e il dolore per aiutare a guarire da tali malattie epicuro appronta il cosiddetto tetrafarmaco o quadruplice rimedio la conoscenza della natura ossia lo studio della fisica non è fine a se stesso esso serve a curare la radice di tutti i mali l'ignoranza già che l'ignoranza genera la paura e la paura è dolorosa se non servisse a migliorare la propria condizione esistenziale lo studio della natura non avrebbe senso la fisica è dunque in funzione dell'etica ha anch'essa un valore terapeutico nella misura in cui ci aiuta a combattere l'ignoranza su due fronti il primo è rappresentato dall'ignoranza del mondo con cui l'uomo è chiamato volente o nolente a rapportarsi e di fronte al quale egli è impotente la morte e il divino il secondo fronte invece riguarda la natura propria dell'uomo che non è possibile mutare ma che si può imparare a gestire facendo proprio alcuni principi dell'etica epicurea essi riguardano come abbiamo visto il principio di piacere e dolore nel primo caso conoscere la vera natura del fenomeno che chiamiamo morte in contrapposizione a vita e comprendere l'essenza del divino e con esso il retto atteggiamento da tenere nei confronti degli dèi è utile a liberarsi dal terrore e dalle ansie con cui sono costretti a convivere coloro che sono afflitti da ignoranza e superstizione come dire la realtà non si può cambiare ma si può provare a cambiare il modo con cui ad essa ci rapportiamo eliminando quel surplus di sofferenza che deriva da una errata visione della stessa per esempio non posso evitare di dover morire un giorno posso però provare nel quotidiano a lavorare filosoficamente sulla paura della morte trascorrendo in maniera lieta il tempo che mi sarà concesso il tetrafarmaco una cura contro i mali derivanti da superstizione e ignoranza il tetrafarmaco di epicuro in sintesi cura la principale causa del male di vivere ossia la paura nelle sue quattro forme principali paura della morte paura degli dei paura di non poter raggiungere la felicità paura del dolore in linea con l'atomismo democriteo la morte è un semplice fenomeno fisico riprendendo l'atomismo democriteo seppure con alcune importanti innovazioni di cui diremo in seguito epicuro riduce la morte ad un fatto puramente fisico e meccanico l'anima umana come il corpo è composta da atomi seppur dotati di una maggiore sottigliezza e mobilità quando tale composto si disgrega il precedente aggregato semplicemente cessa di esistere non vi è alcun reale passaggio dall'essere al non essere né dal non essere all'essere al momento della nascita perché l'essere come aveva mostrato Parmenide non può annullarsi nel suo contrario né provenire da esso così gli atomi non si creano né si distruggono né mutano le loro caratteristiche fondamentali peso forma e grandezza semplicemente cambiano disposizione nello spazio disponendosi a nuove aggregazioni l'evidenza della ragion pura è salva così come quella dei sensi il mutamento di forma dal vivo al morto dalla persona che respira si nutre parla e magari ci sorride in questo preciso momento alla fissità del cadavere è altrettanto giustificata i nostri sensi percepiscono un cambio di stato nella materia pertanto non c'è nulla da temere nel fatto di dover morire ebbene la morte è nulla per noi nulla perché essa rappresenta per così dire lo stadio successivo alla nostra presenza quando siamo presenti noi e abbiamo coscienza della nostra presenza la morte non è presente quando essa è presente insieme all'aggregato materiale che fu l'anima è svanita ogni nostra coscienza della morte quindi è vano preoccuparsi essa non può arricarci alcun male né fisico né psichico perché rappresenta di fatto la cessazione di ogni forma di sensibilità e coscienza né ha senso angosciarsi vagheggiando di mondi ultraterreni in cui l'anima ererebbe dopo la morte ricevendo premi o castigli divini ogni superstizione legata all'oltretomba è priva di senso l'unica cosa di cui effettivamente dovremmo prenderci cura come si diceva è il pensiero della morte e la sofferenza psichica ad esso connessa ma per questo il rimedio approntato da Epicuro è più che sufficiente basta interiorizzare il principio che la morte è nulla per noi e concentrarsi sulla magnificenza dell'attimo presente anche gli dei sono esseri materiali pure gli dei sono composti di atomi ma la loro materia è in condizioni di stabilità a questo si riduce il concetto di immortalità essi esistono realmente l'accusa di ateismo che sarà rivolta agli epicurei è peraltro infondata giacché chiara immagine ne hanno gli uomini di ogni tempo cultura etnia nazione beatamente assisi negli intermondi gli dei non si interessano alle vicende umane gli dei dunque esistono nelle forme e fattezze immaginate dagli uomini ma essendo immortali essi non si collocano nel nostro stesso mondo tra gli innumerevoli mondi cui gli atomi danno origine esistono delle zone franche denominate intermundi in cui le divinità trascorrono beatamente l'eternità in uno stato di perfetto piacere catastematico gli dei insomma rappresentano il modello del saggio epicureo elevato all'ennesima potenza un modello da venerare ed imitare non certo da temere poiché essi nella pienezza della loro beatitudine non si curano minimamente delle faccende umane guardandosi bene dal dispensare ricompense o punizioni ultraterrene una teologia contraria alle credenze e alle superstizioni popolari l'atomismo epicureo non lascia alcuno spazio alla superstizione il cosmo è regolato da forze puramente materiali non c'è spazio quindi per forme di causalità di tipo teologico o morale i concetti di bene e di male come abbiamo visto hanno senso soltanto in relazione al dolore o all'assenza di dolore individuale risulta quindi inconcepibile che il bene si configuri come obbedienza alla volontà divina e il male come disobbedienza il dio del resto non ha alcun bisogno dell'uomo che il fedele preghi faccia sacrifici offerte votive penitenze non lo tocca affatto in un contesto teologico del genere l'unico atto religioso veramente significativo consiste in una adorazione piena di gratitudine non perché il dio si muova a compassione per il fedele adorante ma perché egli nella sua immobile perfezione continui a mostrargli la via ad una vita colma di beatitudine il religioso invece è l'atteggiamento di chi scioccamente attribuisce agli dei sentimenti emozioni ed opinioni degne del volgo la critica alla religione popolare e misterica non poteva essere più nippa il piacere è facile da conseguire vana dunque è la paura del divino così come quella della morte è facile da conseguire con un retto atteggiamento ed uno stile di vita disciplinato come si è mostrato nel paragrafo precedente ciò che dipende da ciascuno di noi assaporare fino in fondo il piacere di essere vivi il dolore fisico è sopportabile se si cronicizza oppure breve se acuto la paura del dolore fisico in ultimo viene allontanata per mezzo di questo ragionamento non dura ininterrottamente il dolore della carne ma il massimo rimane il minimo tempo e quello che appena supera il piacere della carne non dura molti giorni anzi le lunghe malattie danno alla carne più piacere che dolore massime capitali quarta il dolore acuto è per sua natura assai limitato nel tempo ad un dolore cronico invece ci si fa l'abitudine inutile quindi aver paura del dolore presentandolo come quando esso non è presente o aggravandolo della sofferenza psicologica che deriva dalla paura quando esso si manifesta come conciliare il meccanismo della fisica epicorea con la libertà morale? allontanare allontanare la paura contrapponendone una condotta di vita sobria e ragionevole dipende da noi si diceva poc'anzi ma come conciliare la libertà di scelta che è necessario presupporre a fondamento di qualsivoglia dottrina etica con il meccanicismo implicato dal materialismo atomistico detto altrimenti se ogni fenomeno fisico e psichico è riducibile ad un cozzare di atomi tra loro è spiegabile meccanicamente in termini di causa-effetto quale spazio rimane per la scelta etica? potrebbe sembrare questione di poco conto ma essa rappresenta un punto di contatto essenziale tra fisica ed etica epicurea e determina di fatto la principale innovazione apportata da epicuro alla teoria atomistica di democrito il clinamen come principio di casualità secondo epicuro gli atomi di numero infinito e di diversa figura e grandezza sono intrinsecamente dotati di peso in questo si differenziano degli atomi democritei il cui movimento rappresentava per così dire una caratteristica ad essi connaturata e non andava ulteriormente spiegato gli atomi dunque si muovono nell'immensità dello spazio vuoto anch'esso infinito spinti dal loro peso in caduta libera verso un basso assoluto il loro moto assomiglia a quello della pioggia in cui le singole gocce d'acqua cadono l'una parallelamente all'altra se tale caduta proseguisse indefinitamente non si avrebbe alcun incontro scontro di atomi e quindi non si formerebbero aggregati ma ad interrompere tale moto rettilineo subentra un fenomeno denominato da epicuro parenclisis declinazione o spostamento ma noto piuttosto come clinamen il termine latino introdotto successivamente da lucrezio nel dererum natura basta tale infinitesimale e impercettibile deviazione per introdurre un fattore casuale all'interno di una visione che altrimenti risulterebbe rigidamente deterministica dal clinamen al principio di indeterminazione di Heisenberg a prima vista può sembrare che il passo sia lunghissimo in realtà si tratta di un passo molto breve per quanto ingenua ed arcaica appaia l'idea di epicuro ci potrebbe stupire pertanto scoprire la sua assonanza con il principio di indeterminazione che Werner Heisenberg considerato uno dei padri della fisica quantistica arrivò a formulare nel 1926 a quasi 23 secoli di distanza dal nostro filosofo in base a tale principio è impossibile determinare con esattezza il comportamento di una particella elementare dal momento che le leggi della fisica classica quella newtoniana non si applicano al mondo subatomico quello che accade nella regione spazio-temporale dei quanti dunque è rimesso al gioco del caso il principio di indeterminazione è stato confermato da più di 80 anni di sperimentazioni ed è compatibile coi principali teoremi della fisica contemporanea il gioco del caso apre le porte alla libertà di scelta in ambito etico ebbene se gli atomi hanno in sé tale casuale potenzialità allora diventa possibile interpretare la decisione etica del singolo come atto di libero e casuale arbitrio che può realizzarsi contemporaneamente sia a livello psichico che corporeo dal momento che identica è la natura materiale dei due ambiti tale concezione colloca l'epicureismo in una posizione terza rispetto al determinismo assoluto della fisica democritea e al finalismo platonico ed aristotelico in ambe i due casi la libertà dell'uomo risulterebbe compromessa ridotta ad effetto necessario di una causalità efficiente nel primo caso o di una stringente causalità finale nel secondo se invece si ammette con epicuro la possibilità di una libera casualità la scelta morale risulta giustificata e messa a disposizione dell'individuo in carne ed ossa per questo è possibile mutare attitudine di pensiero e stile di vita e allontanare da sé il più possibile le sofferenze prodotte dall'ignoranza un senso di appartenenza cosmica la consapevolezza di far parte di un cosmo infinito immutabile fatto di atomi in movimento nel vuoto cadenti declinanti o rimbalzanti gli uni sugli altri in cui nulla si origina dal nulla e nulla si dissolve nel nulla ma tutto si trasforma accorpandosi e disgregandosi col malanimo del saggio epicureo di una gioia incommensurabile da questo universo omogeneo e circolare infatti è bandito ogni finalismo gli eventi della natura sono perfetti in sé perché non rimandano a fini ulteriori non c'è nulla da realizzare nessun superiore ordine morale nessun destino trascendente da compiere solo l'attimo presente in cui lo studio dei fenomeni celesti diventa giubilante contemplazione come attestano questi versi tratti dal Dererum Natura libro secondo di Lucrezio e in verità dato che l'intero spazio è infinito fuori dalle mura di questo mondo l'animo cerca di comprendere cosa ci sia più oltre fin dove la mente voglia protendere il suo sguardo fin dove il libero slancio dell'animo da sé si avanzi a volo in primo luogo per noi da ogni punto verso qualunque parte da entrambi i lati sopra e sotto per il tutto non c'è confine come ho mostrato e la cosa stessa di per sé a gran voce lo proclama e la natura dello spazio senza fondo riluce la canonica il materialismo fisico di Epicuro si traduce in sensismo gnoseologico con il termine canonica si intende la teoria della conoscenza o gnoseologia di Epicuro canonica deriva da canone che significa appunto criterio standard tale criterio nella visione epicurea è rigorosamente sensista ovvero fondato sulla percezione sensibile il soggetto conoscente entra in contatto con gli oggetti della conoscenza attraverso i cosiddetti simulacri eidola fasci di atomi sottilissimi che attimo dopo attimo si staccano dalla superficie degli oggetti che penetrano nei nostri apparati sensoriali vista, udito, tatto, eccetera il criterio di verità ossia ciò che ci permette di stabilire la corrispondenza tra l'immagine che ci formiamo dell'oggetto conosciuto e l'oggetto stesso risiede nei sensi un adeguato approccio empirico dunque ci consente di fugare qualsiasi dubbio di tipo conoscitivo un certo numero di esperienze ripetute nel tempo imprimendosi nella memoria fa sì che la mente elabori delle idee generiche di un determinato oggetto l'idea di mela all'esempio che ci si forma in occasione dello spuntino pomeridiano deriva dalle reiterate esperienze pregresse con il frutto ne percepiamo il colore la forma la consistenza il profumo il gusto queste informazioni sensibili che derivano dalla natura materiale della mela danno luogo ad una nozione generica di mela che ha un suo corrispettivo anche nel linguaggio parlato grazie a tale nozione generica ciascuno di noi è in grado di anticipare l'esperienza che si appresta a fare ovvero riferendoci all'esempio precedente di pre-gustare la rotondità la fragranza e il sapore del frutto dall'esperienza sensibile diretta alle anticipazioni tramite immaginazione conoscere in anticipo significa proiettarsi in avanti nel tempo nel compiere tale operazione cui siamo naturalmente predisposti si dà sempre un certo margine d'errore perché ciò che immaginiamo non è detto trovi piena conferma attraverso la successiva esperienza la prolessi o anticipazione di quello che ci apprestiamo a sperimentare va confermato attraverso i sensi senza tale conferma si hanno solo mere opinioni in ultima istanza dunque il canone ignosiologico è la percezione sensoriale ed essa si dà sincronicamente ovvero nel momento presente al materialismo in ambito fisico corrisponde pertanto un rigoroso sensismo in ambito conoscitivo i ragionamenti astratti si fondano sul principio di analogia di alcune nozioni per esempio il concetto di vuoto l'idea del divino non si dà esperienza sensoriale diretta tuttavia esse si rivelano necessari ad intendere il significato generale di determinate esperienze senza il vuoto che in quanto non essere non si presta ad alcun riconoscimento sensoriale non si potrebbe spiegare il movimento degli atomi evidente di per sé d'altro canto la presenza stessa della nozione di divinità in ogni essere umano al di là di ogni barriera spazio-temporale essa vale per me oggi e nel luogo in cui mi trovo così come per un uomo vissuto in Grecia secoli or sono rimanda inequivocabilmente all'esistenza della stessa divinità simili ragionamenti fondati sul principio dell'analogia consentono di vagliare le verità che non cadono sotto il dominio dei sensi esercizi spirituali e stile di vita nel giardino epicureo la fisica come esercizio spirituale come in tutte le scuole filosofiche dell'antichità nel giardino di epicuro ci si dedica innanzitutto agli studi scientifici a cominciare dalla fisica l'osservazione dei fenomeni celesti e meteorologici è un atto dotato di una certa sacralità significa rivolgersi contemporaneamente alla natura e al divino entrambi oggetti di ammirazione da parte del filosofo praticante per questo l'indagine scientifica di epicuro sia in ambito naturalistico che ignoseologico si perfeziona in ultimo nella contemplazione essa è utile a fugare i turbamenti dai quali l'uomo comune è afflitto ma ha anche un valore a sé stante perché conosce conoscere e pratica bella e piacevole in sé per sé fissare lo sguardo su un paesaggio soave a prendo con delicatezza le porte dei sensi alla percezione di ciò che ci sta dinanzi ci procura una sensazione di pace e di gioia allo stesso modo lasciare che la mente vaghi nell'infinità dell'universo varcando le soglie del tempo e dello spazio può farci provare nell'attimo l'ebbrezza dell'immortalità tanto che in quel momento potremmo gareggiare infelicità con gli dèi ricordati che sei nato a sorte mortale ed ha finito tempo di vita ma con i tuoi ragionamenti sulla natura sei sorto all'infinità e all'eternità e hai contemplato tutte le cose che sono ora e che saranno o che furono nel tempo trascorso Gnomologio Vaticano 10 il discorso filosofico va interiorizzato attraverso la meditazione naturalmente non basta aver preso confidenza con il discorso logos del filosofo epicureo occorre interiorizzarlo attraverso la pratica e l'esercizio costante la filosofia non consiste in una rassegna di nozioni libresche formule e concetti astratti sviluppare le capacità intellettuali e retoriche dello studente non serve a niente se non provoca un effettivo cambiamento di vita una conversione in vista della felicità il logos epicureo mira ad imprimersi nella carne a cambiare insieme con lo stile di pensiero le abitudini del neofita tale cambiamento si ottiene attraverso l'assidua meditazione sui dogmi della scuola data la difficoltà a procurarsi testi scritti nella scuola epicurea come altrove doveva prevalere la trasmissione orale occorreva quindi allenare la memoria con appositi esercizi a questo scopo i discorsi del maestro erano espressi in agili raccolte di massime che il discepolo all'occorrenza poteva più facilmente ed efficacemente richiamare alla memoria la pratica filosofica in comunità si basa sul sentimento dell'amicizia ma la meditazione non è mai solitaria la pratica viene sempre in seno ad una comunità in essa l'amicizia è il mezzo che mette in comunicazione il discepolo con il maestro e con gli altri discepoli nella scuola fondata da epicuro il sentimento dell'amicizia non rappresenta soltanto una gioia in sé per sé bensì uno stimolo concreto a perseguire una vita all'insegna della filosofia aiutandosi l'un l'altro a superare gli ostacoli che la vita a volte frappone in vista del conseguimento della felicità l'amicizia filia è detta bene immortale ed è indisgiungibile dalla saggezza fronesis che pure come bene mortale è collocata su un gradino più in basso nella scala dei valori epicurei a sottolineare verosimilmente il prevalere della dimensione comunitaria su quello strettamente individuale a differenza del filosofo cinico l'epicureo non è un individualista né ha vocazione monacale l'amicizia di fatti trascorre per la terra annunciando a tutti noi di destarci per felicitarci gli uni con gli altri gnomologio vaticano 52 lo stesso epicuro come ci testimoniano alcune sue lettere tramandate da Diogene Laerzio si propone come una sorta di direttore spirituale sollecito a prendersi cura di amici e familiari premuroso persino dolce in punto di morte scrive al discepolo i domenè una lettera in cui dopo aver fatto scena alla memoria dei colloqui del passato che gli rende lieta l'ora estrema nonostante i terribili dolori derivanti dai calcoli renali e dalla dissenteria che lo affliggono ha la delicatezza di raccomandargli i figli orfani di un altro amico metro d'oro affinché egli provveda la loro alle loro necessità al suo posto una terapia basata sul dialogo e sull'esame di coscienza epicuro non ignora il potere catartico della parola il dialogo filosofico all'interno della sua scuola è praticato con dichiarato intento curativo conversare significa condividere in spirito di amicizia il logos filosofico da individuo ad individuo e rappresenta di per sé un piacere ineguagliabile un'altra pratica in uso presso la comunità epicurea è quella dell'esame di coscienza basato sulla cosiddetta parresia che in greco significa dire la verità essere sinceri autentici il discepolo ha la possibilità di liberarsi del proprio senso di colpa confessandosi dinanzi ai compagni in questa maniera si riduce la sofferenza derivante dal conflitto interiore e dall'isolamento cui ciascuno si condanna chiudendosi nel proprio individualismo il resto è esperienza comune a tutti come la verbalizzazione del proprio vissuto interiore soprattutto in presenza di situazioni problematiche sia di immediato giovamento all'anima essere sinceri confessare le proprie colpe e accettare i fraterni rimproveri del maestro e dei compagni più anziani è una delle principali virtù dell'epicureo perché solo grazie a questa disposizione di spirito si può effettivamente progredire nel cammino verso la felicità il culto del maestro a questo scopo si arriva addirittura a idolatrare la figura del maestro fa tutto come se epicuro ti vedesse consiglierà alcuni secoli dopo il filosofo stoico all'amico lucilio epicuro diviene così l'incarnazione della saggezza una sorta di dio tra gli uomini ad imitazione del quale occorre improntare la propria scelta di vita da qui un certo dogmatismo ossia una rigidità dottrinale che contraddistinguerà la scuola epicurea sino alla fine osservare se stessi come abbiamo visto di fondamentale importanza doveva essere la pratica della disciplina dei desideri in tal senso studiare filosofia significa osservare attentamente la propria interiorità nel vivere quotidiano si è epicurei quando si fa colazione quando si cammina o si sta seduti quando ci si corica per dormire dobbiamo immaginarci persone in carne ed ossa impegnate nella conoscenza di se stesse la via epicurea in questa maniera si innesta sul solco tracciato dallo gnozise auton conosci te stesso della tradizione delfica e socratica uno stile di vita frugale lo stile di vita epicureo ci testimoniano le fonti è contraddistinto da un'alimentazione frugale un pane fragrante accompagnato da acqua limpida sono più che sufficienti a spegnere fame e sete e con un pentolino di cacio si banchetta soddisfarre con moderazione i propri bisogni in modo da mantenersi in uno stato di aponia assenza di dolore fisico basta garantirci contro i mali del corpo vivi nascosto la rinuncia al soddisfacimento di quei bisogni che epicuro classifica come né naturali né necessari fa sì che l'adepto si tenga lontano dai grattacapi e dalle preoccupazioni che rendono amara la vita di chi è sempre in cerca di riconoscimenti sociali cariche istituzionali denaro successo potere l'altebiosas vivi standotone nascosto recita una celebre massima il che non significa necessariamente come si è spesso sostenuto che epicuro inviti a disinteressarsi egoisticamente della buona politica il criterio naturale della vita associata è l'utilità su di essa si fondano il diritto positivo e le leggi esse sono convenzionali e mutano da popolo a popolo ma ad ogni latitudine servono a garantirci gli agi e le mutue opportunità offerte dal vivere insieme come dire la buona politica consiste nel cooperare avendo di mira l'interesse comune e non nella ricerca del potere o dell'interesse personale una comunità aperta inclusiva e cosmopolita peraltro come si è visto la vita dell'epicureo trascorre in compagnia allietata dalla gioia insuperabile dell'amicizia e della condivisione il giardino di epicuro a differenza dell'accademia platonica o del liceo aristotelico le fonti ce lo rappresentano aperto la più vasta umanità senza barriere di tipo sociale intellettuale o sessista per aderire all'epicureismo insomma non occorreva essere di buona famiglia né avere un quotiente intellettivo particolarmente alto né essere uomini liberi sappiamo infatti che il giardino era frequentato anche da persone semplici schiavi donne sposate e persino cortigiane come una tale Leonzio rappresentata dal pittore teoro in posa meditativa nella famiglia era considerata d'ostacolo quantunque pare che epicuro abbia rinunciato a formarsene una sua propria da ciò si ricava l'ispirazione cosmopolita della dottrina epicurea la sua vocazione universale conforme allo spirito prima ellenistico e successivamente romano imperiale mentre altre scuole filosofiche si mantennero per tutta la loro plurisecolare esistenza elitarie ed esclusiviste l'epicureismo ebbe ampia diffusione nel mondo antico il dererum natura del poeta latino titolo lucrezio caro e le iscrizioni che il ricco epicureo diogene fece scolpire sulle pareti di un portico nella città di Enoanda in Asia minore per diffondere la dottrina sono testimonianza dell'ardore missionario che dovette animare la scuola anche a molti secoli di distanza dalla morte del suo fondatore vivi l'attimo nel raccoglimento e nel pacato godimento dei più elementari piaceri della vita in buona compagnia trascorre la vita dell'epicureo egli esercita la sua attenzione a focalizzarsi sul momento presente l'unico veramente esistente senza curarsi del passato che non è più o del futuro che non è ancora con ciò impara a godersi la meraviglia dello stare al mondo a questa emozione accenerà un altro poeta d'età augustea quinto Orazio Flacco con il celebre carpe diem afferra l'attimo la meditazione sulla morte fugace fugato ogni terrore con il quadruplice rimedio serve appunto ad apprezzare con maggiore entusiasmo e trasporto l'infinita ricchezza di ciò che si sta vivendo hic et nunc qui ed ora per tanto ci ricorda epicuro non bisogna indugiare dedicarsi alla filosofia né quando si è vecchi né quando si è giovani non avremo una seconda chance per essere felici si nasce una volta due volte non è concesso ed è necessario non essere più in eterno tu pur non essendo padrone del tuo domani procastini la gioia ma la vita trascorre nell'indugiare e ciascuno di noi muore senza aver mai goduto della pace in omologio vaticano 14